Gestiva una rete dedita al traffico di droga tra Puglia e Basilicata, coinvolgendo anche diversi minori, tra cui i suoi due figli, uno dei quali di soli nove anni. È stata arrestata una donna di 44 anni con l'accusa di essere a capo di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con base operativa a Dirsina, nel Materano. La rete delittuosa è stata sgominata dai carabinieri nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto il territorio a Pulolucano, sette le ordinanze di custodia cautelare in carcere, tra cui la stessa 44enne ed altri 21 decreti di fermo indiziato. Tutti i 28 indagati sarebbero riconducibili a due distinte realtà criminali impegnate nel traffico di droga tra Puglia e Basilicata. Un'operazione denominata Coppia Regina è condotta dai carabinieri, coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Bari. Le indagini partite nel giugno 2016 sono terminate a dicembre scorso e hanno coinvolto anche gravine in Puglia, quest'ultima indicata come seconda base delle attività di traffico di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, tra Irsina e la città murgiana c'era un forte legame in termini di proficui interessi economici con le due associazioni delittuose impegnate nel traffico di sostanze stupefacenti come marijuana, hashish e cocaina nel corso delle indagini. Sono state sequestrati oltre 700 grammi di droga. Sempre secondo quanto ricostruito, la donna 44enne a capo dell'organizzazione criminale impegnava nelle sue attività anche i suoi figli minori, uno dei quali di solo i nove anni, degli altri sei arrestati. Tre sono residenti a Gravina in Puglia, due baresi ed uno residente a Matera.